L'obiettivo si pone come lista la Meloni a Milano, che percentuali la farebbe con te? Guardi, io non parlo mai di numeri, faccio sempre il mio lavoro e insieme agli altri fratelli d'Italia facciamo il nostro lavoro per fare il massimo. Puntiamo la vittoria, sia chiaro. Io non credo affatto, penso che questa piazza lo dimostri, che il risultato delle elezioni amministrative a Milano, così come nelle altre città, sia scritto. Io combatteremo fino alla fine, credo che anche in questa città i tanti cittadini che sto incontrando non siano così soddisfatti dall'amministrazione sala come l'eco sui quotidiani. Mi pare di leggere ormai una stampa abbastanza distante da quello che pensano i cittadini e quindi noi parliamo direttamente con i cittadini e cerchiamo di convincerli sulla bontà di una proposta alternativa rappresentata dal centro-destra. Quel centro-destra che immaginò tutti i cantieri grazie ai quali la sinistra ha tagliato nastri negli ultimi dieci anni, perché hanno tutti i progetti del centro-destra, quindi con una visione chiara e un candidato sindaco che secondo me è perfettamente all'altezza di questa visione e di questo programma.